Ah, sta già andando, mi sapevo. Ah, è bene, no, non voglio iniziare da sola. Ecco. Si vede? Aspetta. Voilà. Facciamo così. No, non ti sia da testa usissima. Stenditi. Devo spropostendermi. Sì, ma se sta già andando un inizio di merda, scusami. Sì, ma il problema è che non so come si stoppa, sono un incapace. Ecco, ciao. Ciao. Magari non si sentirà nulla. Magari non si sentirà nulla. Eh, vabbè, al massimo avete visto solo sto inizio orribile, caliente. Ehi, alla nostra felpa! Ciao. Ciao. Meri, la tua collana. Cioè, non è mia in realtà. Però l'Inghilterra è la tua. L'Inghilterra mi fa pensare a quella persona lì. Aspetta. No, dove metto? Questa è... La dovevo mettere a Roma, se fossi venuta. Se sarebbe venuta. Se sarebbe venuta. Allora, l'Analisa è stato tra giorni che mi prende in giro perché uso il passatore moto. Vabbè, ci mancherà. Dove lasciai il telefono? O quando trovai? Non è normale. Sì, che lo è. È passato, è perfetto, è futuro. È The Sims. Il tipo, lo stesso tipo di The Sims è tipo, ho fatto fighi fighi con otto persone. Otto persone, i due giorni. Marchi e fermi, ne chissà. No, con i maschi non ho potuto, ho amoreggiato quei maschi. Ma ora si è innamorato. Ora si è innamorato. Ma che carino. Vabbè, vorremmo salutare... Salutiamo tutti, salutiamo tutti. Ok, allora, salutiamo ciao Lika che è... Ciao Lika che devi rispondere a questo momento al telefono. Ciao Thea che ha rotto già stelle mattine. Ciao Thea, il suo bellissimo risveglio di ieri. Ciao quel tizio lì che è... Ciao quel tizio di amore! Vai, vai, vai. Coricini. Ciao Mary. Secondo me non sta andando più sto video. Madonna. Boh, magari ci stiamo prendendo da qui. Io sto ancora in quel canale ve l'ho letto. Vai a vedere. Si è scritto REC? REC, sì. Allora finisca andando, ciao! Sta andando, non si sento. Eh vabbè ma... Questo lo vedremo in futuro. Dopo che avremo finito. Questo lo scopriremo solo, vivendo. Dopo questo te ne vai, ciao. Ieri ieri avevamo detto una cosa peggio, era tipo... Si fossi o mordere il mondo. Tu dai acqua all'arriamo. Si fossi o mordere il mondo. E c'è no. Ha risposto da ieri. Si fossi o mordere il mondo. Si fossi o mordere il mondo. Leggiamo il massaggio della vita in diretta. In diretta mondiale. No, è la vita. È l'ità? Sì. È l'ità. No, è donna. No, è donna. Chi è donna? È il tipo che è. È il centro commerciale. Ancora un centro commerciale. Lo sapevo. Lo sapevo. Eh, lica, lica, lica. Sossa. Vabbè, poi chi c'è? Allora, ciao lavi. Che abbiamo sentito. Ciao lavi. Ciao lavi. Poi, ciao bello. Sì, 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 sì. No. Non sono passati, quindi li so. Qualcosa non sia l'indicativo. Allora, passato remoto. Chino. Bello. È bellino. È bellino, come dice la ricetta. Ciao, mi scelgo. Non usai il passato remoto, perché non lo considerai appropriato. Eh, però adesso l'hai usato. E non solo... Lo usasti. Lo usasti. Lo usasti. Che è brutto? Vedi che è brutto. Ti dico io da tre giorni. No, solo adesso è brutto. Lo trovai? È bello. Lo trovai. Lo trovai. Dove lasciai? Ti mostrerà. Poi, come va? Questi giorni ho tre volte ad averle fatto. Elisa che afferma di avere quattro vagine e un pene. Tra tanto la signora. Fidateli. Non voglio sapere dove. Eh, poi... Eh, poi è strano. 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 Non tanto messaggini. E poi c'è... Baa 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 baa. L'Area, dalle Puzzona, che sta facendo le sue porcate. Con Nicula. Nicula. E poi c'è... Sinz. Deve studiare scienze. Deve studiare scienze. Poi chi c'è? Poi, boh. Prendi la rubrica. C'è la Uli. Ciao Uli. Anche la Uli che parla in napoletano. No, non tanto. La Uli che stamattina stava cercando di recuperare una tela. Non so cosa fosse successo. È anche su Skype. Sì, ma non mi rispondeva. Eh... Pepepepepepepe. Stima mattina abbiamo comprato i link se. Perché lei ha il flusso troppo abbondante. Anche lei è più di una pagina in realtà. Sennò non li finiva tutti. Ops. Vabbè, poi... Eriamo anche solo un nostro persona. Quindi me li cambio. Meno male. Dato che non si è cambiato da settembra a giorno in cui sono arrivata. oh si si mi vedi vestita come l'ultima volta che siamo viste a settembre 3 mesi a 4 no a settembre a settembre si perchè tutto settembre devi contare poi che c'è altro da ascoltare ciao ali adesso che ho guardato la bridge perchè mi chico in una macchinetta così se no che la tua è una fuji stavo dicendo quale bridge sulle ponte a bignonne sulle ponte a bignonne noi cantiamo una canina chi è? cos'è? non conosci questa cosa? bu non ci si vedrà per tutto il video oppure non ci si sentirà dovrebbe mettere poi sotto i titoli per i non udenti chi si ricorda cosa abbiamo detto? mi devi l'abbiare ma abbiamo salutato tutti? no manca manca la franci ciao franci la franci manca la franci ciao riku che sei un figo in the sims in the sims stai scopando però tu sei tu stai scopando esatto era lui poi ciao ciao mec ciao dom ciao secco ciao mica che starai puzzando ciao sat passiamo allo staff ciao michelle ciao Giuliana che se non entra mai ciao ice ciao penicorno ciao penicorno che vengi sempre a Vigevano City Vigevano City che finisce in Anno come tutte le città che mi è mandato in me che non posso leggere Montesano Vigiano Super Sano Super Sano Caprari Vige Super Anno Super Anno Super Anno Super Anno Bravo poi noi sappiamo dove è l'Olanda che non è l'Olanda che non è l'Olanda l'Olanda non è l'Olanda l'Olanda non è l'Olanda e boh buon anno a tutti ciao buon anno a tutti e soprattutto noi vi aspettiamo gambe aperte che parale che porca devo rispondere alla il che mi ha fermato chiudo io col pensiero col pensiero no mi sa che sta ancora andando appunto vabbè confusione merdosa per l'inizio merdoso 11 minuti ah ma sta andando ma che cazzo ma come si chiude è infinito mi sta ritendendo il culo nello specchio come si fa a fermare questo non è un'altra ma che cazzo